L'accantonamento del fondo straordinario in condominio appunto per le opere di carattere straordinario deve essere pagato integralmente prima dell'inizio delle opere o vi sono anche altre possibilità? Te ne parli in questo video, prima però se non lo hai ancora fatto ti chiedo di iscriverti al canale, lascia un like, attiva la campanella, lascia un commento ma non perdiamo tempo e iniziamo. Nella vita amministrativa di un condominio capita certamente il momento in cui vi è necessità di affrontare degli interventi straordinari per eseguire il riflessio di parti condominali che chiaramente per motivi di vetustà richiedono interventi di carattere straordinario. Ecco che qui interviene l'articolo 1935 numero 4 che prevede obbligatorialmente l'accantonamento del fondo straordinario per eseguire le opere. Ecco che in questo caso però noi dobbiamo distinguere su quelle che sono le interpretazioni maggioritarie nel merito dell'accantonamento di questo fondo straordinario. Se noi diamo una lettura stringente di ciò che prevede questo articolo e se dovessimo basarci su quelle che sono le interpretazioni di alcune sentenze si dovrebbe affermare che diventa obbligatorio accantonare integralmente questo fondo straordinario prima dell'inizio delle opere. Ma ecco che qui dobbiamo analizzare in modo più dettagliato e più completo quelle che sono diciamo le pronunce maggioritarie che per fortuna in dottrina riusciamo a reperire che convergono su tutt'altra linea. Ciò che si riscontra ad oggi a livello maggioritario indica in modo ancora più chiaro che se noi dovessimo applicare il 1135 e il numero 4 in modo stringente ne conseguirebbe una impossibilità di riuscire anche solo ad iniziare lavori. Perché? Perché se si prevede di accantonare il fondo straordinario integralmente prima dell'inizio delle opere, punto primo significa che sarebbe sufficiente il mancato pagamento da parte di un solo condomino per impedire l'inizio delle opere. In secondo luogo si creerebbe una difficoltà anche di carattere economico al condomino costretto a pagare integralmente prima dell'inizio delle opere l'intera somma che talvolta può anche risultare difficoltoso se non che addirittura impossibile. Ed ecco che una parte maggioritaria delle pronunce di numerose sentenze che sono facilmente reperibili vanno ad indicare che da un punto di vista formale è necessario distinguere la gestione straordinaria da quella ordinaria. È obbligatorio quindi redigere un verbale d'assemblea con i quorum previsti dalla legge, quindi con un'efficace convocazione che vada a destituire il riparto straordinario, che vada quindi anche a destituire il fondo straordinario, ma che questo possa essere pagato sulla scorta dello stato di avanzamento dei lavori, quindi con una quantità di rate previste dal contratto d'appalto o dai contratti d'appalto verso le imprese che interverranno nelle attività straordinarie in modo da poter consentire ai condomini di effettuare i pagamenti a partire dall'inizio delle opere sino al termine delle opere. In questo modo ovviamente sussiste intanto una più democratica suddivisione degli importi, un'adeguata ripartizione che segue l'andamento delle opere, la possibilità di dare origine all'intervento anche nel caso in cui un condomino non avesse pagato la propria rata per il quale comunque l'amministratore dovrà agire con tutte le attività necessarie per il recupero del credito e in questo modo sarà possibile dare inizio all'esecuzione delle opere. Questa interpretazione maggioritaria segue anche ciò che è previsto e che è stato anche chiarito dalla Cassazione nel merito ad esempio delle opere di carattere urgente nella obbligatorietà dell'amministratore di doverle eseguire prima ancora di dover convocare l'assemblea. Prendiamo l'esempio di un intervento di carattere urgente straordinario volto ad eliminare un pericolo, volto a ripristinare una condizione per la quale non può attendere l'amministratore del tempo. Ecco che l'amministratore ha facoltà di intervenire, anzi deve intervenire per ripristinare, togliere il pericolo e quindi ordinare anche attività di carattere straordinario, ponendosi poi nella condizione di convocare l'assemblea nel più breve tempo possibile per poter appunto ottenere la ratifica assembleare del proprio operato. Ecco che se un intervento di carattere straordinario urgente rientra nelle disponibilità e nelle facoltà e nei doveri dell'amministratore, con la stessa razio possiamo anche interpretare in modo positivo le pronunce maggioritarie per quanto riguarda il fondo straordinario che deve essere appunto previsto da un punto di vista formale, burocratico, assembleare, deve essere redatto il bilancio straordinario ma questo non dovrà essere quindi pagato integralmente in anticipo da parte di tutti i condomini ma dovrà seguire un andamento che rispetterà le fasi di avanzamento lavori nel rispetto delle disposizioni inserite nei contratti d'appalto. Questa appunto è la linea maggioritaria che noi possiamo riscontrare dalle numerose pronunce nel merito ed è questo quindi che vi suggerisco di eseguire o di far eseguire all'interno del vostro condominio se dovesse trovarvi nella stessa medesima condizione. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, di vostro piacimento e di interesse soprattutto, mi scuso per il piattone ma colgo l'occasione per fare due passe prima di tornare in ufficio. Se non lo avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciate un like, attivate la campanella, soprattutto un vostro commento e quindi per il momento da Diego Santi è tutto, al prossimo video!